E benvenuti e bentornati in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario e come va, soprattutto perché oggi è Pasquetta, quindi se state ascoltando potete anche uscire e andare a fare una bella grigliata oppure passarla con gli amici, passarla con chi volete, però nel caso in cui volete ascoltarmi oggi uscire dalla mia zona di comfort e andare a intervistare qualcuno che parla di un argomento completamente diverso, alieno al mio, in cui siamo abituati in questo podcast, potete continuare ad ascoltare. Oggi infatti usciamo dalla nostra zona di comfort e ne andiamo a parlare di fisica dei materiali, meccanica quantistica, superconduttività, parlandone con un professore che si è prestato a venire ospite in questo ormai circo, in questo mondo di matti che è questo podcast. Quindi io direi che non per T.A., non ci perdiamo in altre chiacchiere, facciamo partire la sigla e poi cominciamo. Astronomia al planetario, podcast dove racconti, risposte e discussioni su domande astrocosiche si incontrano. Il podcast nella nebbia modenese che parla del limpido cielo notturno. Allora, allora, chi abbiamo oggi come intervistato? Io lascerei anche presentare, faccio soltanto un piccolo preambolo, ovvero professore che ci siamo incontrati per un workshop sulla divulgazione, che poi invece, andando un po' a approfondire, ho scoperto che lavora a Modena, sia a Modena, a Bologna, professore di fisica dei materiali, meccanica quantistica, superconduttività, qui nel dipartimento ufficiale di fisica, e Samuele Sanna. Prego. Buona giornata a tutti. Eccoci qua. Sono molto, molto lieto di essere qui con te, Edoardo, in questa giornata anche un po' speciale, un po' per tutti. Dove ovviamente quando lo ascolteranno pioverà, sarà piovendo, perché è Pasquetta, quindi... Questa è la legge di Marfi, che ogni anno si ripresenta. Però saremo noi qui ad aglietarli, in qualche maniera. Ovviamente, sì, sì, siamo qua a posto. E io farei, proprio comincerei con la Genesi, perché queste puntate qua, queste interviste con il professore, mi piace un po' andare a scavare dietro, ovvero vedere anche la persona dietro il professore. Diciamo che, come studente, uscendo un po' da questa fase di studente, ormai sono alla fine del percorso, ovviamente se non comincio il dottorato, in cui vedo, percepisco, comincio a percepire sempre di più i professori come anche proprio persone. Prima erano oggetti, persone distantissimi da me, adesso invece mi piace andare a vedere questa... come sono arrivati a essere professori, qual è stato il loro percorso, come sono arrivati a essere qui. Quindi, proprio la prima domanda è, se vogliamo, sulla Genesi del suo essere professore. Come è arrivato qui, quale percorso ha seguito proprio, come si è appassionato anche alla materia? Beh, il mio percorso di fisico, anche se in maniera molto inconsapevole, è iniziato quando ero bambino. Quando ero bambino avevo una curiosità smodata, di capire perché le cose che mi accadevano davanti succedevano in quel modo lì. E c'è un ricordo nella mia memoria, molto, molto vivido, di quando, probabilmente avevo intorno ai 6-7 anni, smontai la bambola parlante di mia sorella. Sarà stata molto contenta, immagino. Che non ha mai saputo che poi non è riuscita a parlare perché io l'avevo praticamente smontata, perché volevo assolutamente capire quale fosse il meccanismo che permetteva a questa bambola di parlare, di emettere del suono. Adesso, oggi, noi siamo abituati a un sacco di sistemi interattivi. Facciamo l'esempio semplicemente di Alexa, che risponde a tutte le nostre domande, l'intelligenza artificiale, che adesso hanno bloccato, però che è disponibile di poi fare tutte le domande. Quindi siamo un po' abituati, ma quando io ero bambino, insomma, negli anni 80, queste cose suscitavano un po' di stupore, no? E io capì, e fui molto soddisfatto di questo, capì che ciò che faceva parlare la bambola era un piccolo disco di vinile bianco, ricordo ancora anche proprio il colore, piccolissimo, del diametro di, non so, di 2-3 centimetri, che veniva attivato da un motorino, che veniva attivato dalla batteria. Ok. E credo che lì sia iniziato il mio percorso del piccolo fisico, quindi non mi accontentai di quello, poi mi rimase sempre questa eredità della curiosità di capire ma perché l'elettricità, la batteria che io connetto con questo motorino, permette che il motorino giri e poi come mai il disco, una volta che si mette a ruotare sotto una puntina, è in grado di trasmettere il suono e riprodurre il suono poi attraverso l'altoparlante? Quindi era tutto questo meccanismo dall'inizio, quindi del generatore, se vogliamo, fino al suono che arriva al nostro orecchio, che aveva attivato in me tutta questa curiosità. Ma ti dirò di più. Che ti ha portato comunque a vandalizzare la... A vandalizzare... però io questa curiosità che avevo per capire come funzionassero gli oggetti che avevo davanti, questa curiosità non mi ha portato soltanto a distruggere quasi, perché poi ovviamente non sono più riuscito a ricomporla. Vabbè, ecco, quelli sono i primi esperimenti. Esatto, distrugge i giocattoli di mia sovra, ma anche i miei sostanzialmente, perché mi ricordo che desideravo tantissimo il registratore, esistevano al tempo i registratori, quelli in musicassetta, no? Sì, 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 io lo conosco perché la tecnologia della macchina di mio padre è ancora musicassetta, quindi poi ho imparato a conoscere quelle e a distruggerle. Vedi, quindi, perché ancora qualcuno di questi... Ed erano dei registratori tipo rettangolari che avevano i cinque tastini, play, e mi ricordo, lo desideravo tanto, me lo feci regalare per Natale e credo a Capodanno non funzionasse più, perché io lo smontai. Completamente. Lo smontai per capire cosa ci fosse dentro, quindi tutti questi elementi che mi incuriosivano un sacco. Io quindi sapevo riconoscere già da bambino cosa fosse una resistenza elettrica, una capacità, anche se ignoravo completamente il funzionamento. Io credo che dietro la mia scelta di fare fisica ci sia stata questa molla. Ma quindi hai, cioè, questo approccio proprio sperimentale, non tanto collegato, se vogliamo, alla parte più teorica, quanto proprio a smontare, rimontare tutte le parti. Quindi anche quello lì è stato poi il tuo proseguo, ad esempio, che ne so, un tecnico mi verrebbe da pensare, oppure liceo, classico latino e via, e poi ritornare alla sperimentazione. Io, sebbene, insomma, fossi molto più attirato dalle materie scientifiche, in realtà poi al liceo scelsi di fare il classico. Ah, il classico. Scelsi di fare il classico. E questo, in qualche maniera, mi ha aiutato anche un pochino a curare la parte un po' più, se vuoi, verbale, un po' più, anche letteraria. Sì, direi che lì ti abbiano proprio... Sì, è stato tostissimo per me, perché non ce l'ho portatissimo, però poi, insomma, riusci anche a raggiungere qualche buon risultato. Ma la mia passione rimanevano le scienze, quindi quando dovetti scegliere il corso di laurea, pensavo a un corso di laurea scientifico, non avevo ancora capito bene fisica, perché, nonostante adesso il racconto che ho fatto prima, che effettivamente sono rimasti nella mia mente proprio questi ricordi di me che giocavo, smontavo i motorini, facevo dei circuitini con i dead, queste piccole cose che possono fare. I bambini, sostanzialmente, ma non avevo assolutamente idea che quella fosse la fisica, perché poi anche a liceo classico non è che, anche poi quando sono andato a liceo, non è che avessi avuto modo di approfondirla, non essendo una delle materie principali, no? In un liceo classico se ne faceva davvero pochissimo, io la fisica l'ho imparata poi quando sono andato all'università. Però ci fu un episodio che mi illuminò. Mi illuminò e capì che proprio il corso di laurea in fisica era il percorso più adeguato a quella che era un po' la mia indole, la mia sette di capire, di conoscenza, di capire come funziona il mondo che mi circonda. E non a caso poi sono andato a fare fisica della materia, perché la fisica della materia è la fisica che ti aiuta a capire proprio il mondo che puoi toccare con mano, con quello con cui interagisci. Non credo, appunto, in questo senso credo che ci sia tutto un filo conduttore. Poi l'ho capito a posteriori, perché ovviamente quando ero bambino non era proprio pensabile. C'è un episodio che mi accade quando... Allora, io ho studiato, ho fatto liceo a Sassari, perché io sono della zona appunto di Sassari, dove vengo dalla Sardegna, poi per l'università sono andato a studiare fisica a Cagliari, perché a Sassari non c'è questo corso di laurea. L'università in Sardegna è solo a Cagliari? No, c'è anche a Sassari. Ah, ci sono. C'è anche a Sassari, diciamo che ci sono alcuni, molti corsi di laurea che sono comuni nel senso, e poi ce ne sono altri che ci sono solo a Cagliari, come diciamo ingegneria, almeno al tempo era così, ingegneria, fisica e credo anche matematica. Ah, più materie, più ore, se vogliamo. Mentre invece Sassari, per esempio, ha agraria, ha veterinaria, almeno al tempo era così, ora forse ho perso anche un po' le tracce, magari le cose sono un po' più mescolate, quindi a seconda di quello che desideravi fare, insomma, potevi scegliere soltanto una delle due. Per fisica dovete andare a Cagliari, che poi è un'esperienza bellissima, fare lo studente fuori sede, poi Cagliari, anche Cagliari è una città molto bella. Io in Sardegna non ci sono ancora stato, però oggi, lo so, ci devo andare, ci devo andare. Allora qui pubblicamente ti invito a venire a trovarmi. Molto volentieri, ma più che altro sentivo appunto che ci sono alcune cose completamente nascoste, alcuni musei nel centro della Sardegna. Prima, mentre facevamo i giochi per scaldarci la voce, mi è venuto in mente basalto e c'è una cava di basalto sconosciuta nel centro della Sardegna che io l'ho scoperta attraverso i podcast ed è bellissimo, cioè proprio mi sono... Allora andremo insieme a visitarla, perché è vero che nella Sardegna si conoscono spesso soprattutto le zone della costa, le spiagge, una meta turistica per questa ragione molto ambita e molto frequentata, ma anche nelle zone interne, a parte che c'è un parco archeologico fantastico, dai nuraghi, insomma tutte le altre. Essendo una terra molto antica, quindi sicuramente ci hai visto bene andare a visitare le parti interne che meritano tantissimo. E quest'episodio che mi ha portato, che è stata proprio l'illuminazione che io ebbi per iscrivermi a Fisica, avvenne durante l'ultimo anno del liceo, una di quelle giornate dedicate agli studenti del liceo. Oggi la chiamiamo Porti Aperte. Ah sì, 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 ok. Oppure come... No, l'accoglienza è fatta per quelli che si devono iscrivere alle superiori. Comunque sì, ci sono tipo... Eh, gli Open Day, gli Open Day. Esatto, adesso diamo un po' questi nomi un po' inglesi che fanno più cool, sto per usare l'altro termine inglese. Una specie di Open Day in cui venivano presentati, ci ospitarono lì all'Università di Sassari, proprio nell'Aula Magna, ora era quasi rettorale, tutto bello. Si presentavano in grande stile. E si presentavano, esatto, in grande stile, le varie facoltà, al tempo esisteva ancora la suddivisione nelle facoltà, e vi era un rappresentante per ogni facoltà, un ospite che arrivava anche da altre università. E per la Facoltà di Scienze, Matematica e Fisica, come si chiamava allora, venne un professore della Sapienza di Roma, che era un fisico. Io purtroppo non ricordo più il nome e ne ho perso completamente le tracce. e lui invitava, dopo aver fatto la presentazione del corso di laurea, invitava i vari studenti a se volete, poi io sto qua, se volete venire a farmi delle domande. Io in realtà non pensavo di far Fisica, ma avevo una cara amica, che era nella classe a fianco alla mia, che quell'anno aveva avuto un professore molto giovane di Fisica, molto brillante, di cui probabilmente si era anche un po' presa una piccola cotta, no? A volte, qualche volta che succede, e comunque era molto ispirata da questa cosa della Fisica, voleva iscriversi lei a Fisica, mi diceva, ah io vorrei far Fisica, dai vai tu a chiedergli qualche cosa. Mi ha mandato davanti, io sono quello dalla faccia di cartone, e niente, un po' timoroso, così come si è a 18 anni, 19 anni, mi avvicinai a questo mega professore, mi spacciai per quello interessato a Fisica, e lui mi illuminò, mi illuminò con delle frasi che, se ripeto oggi, in realtà mi avrebbero dovuto far spaventare, perché lui disse delle cose che poi erano anche tutte vere, che il corso di laurea in Fisica era molto, molto duro, molto selettivo, che la mattina si facevano le lezioni, il pomeriggio si faceva i laboratori, e poi gli studenti trovavano il tempo per studiare, magari la sera, la notte, quando era, poi che a fare il fisico non ci si sarebbe mai arricchiti, che sarebbe una professione che dal punto di vista sociale non porta grandi fortune, esatto, e poi i finanziamenti in Italia, e al tempo ancora, erano gli anni 90, al tempo ancora ne arrivavano un po', non erano granché i finanziamenti per la ricerca, e quindi, insomma, tutta questa situazione che un po' ti complicava la vita, infatti, col senno di poi dico, ma mi voleva incoraggiare o mi voleva scoraggiare a scrivere la fisica? Però è successa questa cosa, che mentre lui continuava a snocciolare tutte queste cose negative, io, nella mia mente, ero rimasto fermo a... Il pomeriggio si passa interamente nei laboratori, e io, mentre lui continuava a parlare di tutte queste cose, io già mi vedevo lì, che stavo davanti a qualche strumento a vedere come funzionavano le cose, a fare delle misurazioni, non so, non avevo ancora un'idea molto vaga di quello che poi ho scoperto, effettivamente è stato quello il colpo di fulmine. Ok. Sai che mi piace molto questo approccio, perché per me invece è stata una lenta conferma, ad esempio. Cioè, ero, anch'io, curioso da piccolo, spaccavo, per non dire rompere, un sacco di oggetti a casa mia, perché mio padre è perito elettronico. Quindi qualche cosa mi... tipo a cablare le ciabatte, lo vedevo che era lì a attaccare le cose. Diciamo che ho rischiato più di una volta di prendere la scossa. E invece fisica, vabbè, ero curioso, avevo questo grande libro dei perché, che è stato il peggiore regalo che i miei potessero farmi, perché appunto ha scatenato tutte queste cose e oltre che fare domande a loro, dopo le passavo a leggere questo libro e a vedere tutti i perché che si fanno in quella fase dei bambini. E invece fisica è proprio stato questo... Ok, voglio fare quello, anche se a liceo non c'era stato questo grande avvicinamento. Cioè, mi piaceva perché un po' me la stavo coltivando per i fatti miei, massimi sistemi che ho partito con fare fisica teorica. Diciamo che mi sono ridimensionato negli anni, infatti c'è stato questo lento cambiamento fino ad arrivare adesso. E infatti poi, una volta fisica, anche io mi sono innamorato dei laboratori. Però ti faccio una domanda. Come è stato? Visto che non sapevi a che cosa andavi incontro, come è stato il primo incontro con il laboratorio? Perché almeno per noi è stato l'incontro con tipo gli errori, le regressioni lineari fatte che ci hanno fatto fare ancora con la carta millimetrata. Ah beh. Quello sì. Oppure scoprire e dimostrare che un oggetto è quel determinato oggetto. Ovvero, il nostro primo esperimento, che ci ha fatto la prof, che io ringrazio e saluto ancora, professoressa Franchini, che ci ha dato un oggetto dove non era un cilindro. Cioè, si vedeva, era un cilindro, però dovevamo dimostrarlo. Quindi, misurare i due assi e misurare l'altezza. Il problema è qual era? Che con i due assi non era un cerchio e non rientrava con l'errore. Quindi è diventato tipo un elissoide ruotato. E però quello lì effettivamente ci ha portato, non potevamo dire che era un cilindro e quindi la nostra relazione è stata dimostrare che diventava un elissoide ruotato. Quindi ti chiedo qua, che casomai può essere anche o stimolante o da un altro punto di vista, invece ti fa prendere coscienza di quello che è effettivamente l'errore, di quello che è la fisica sperimentale, questo primo approccio. Com'è stato laboratorio 1 o il primo laboratorio? Eri ancora convinto o c'è stato, oddio, ok, dove mi sono iscritto? In realtà non ho dei ricordi specifici, ma diciamo mi ricordo la sensazione. La sensazione è molto molto positiva, nel senso che mi piaceva parecchio, proprio perché soddisfaceva questo mio desiderio di capire, con grande fatica, perché non è mica semplice. Insomma, adesso anche tu hai studiato, stai studiando, hai studiato fisica, quindi hai visto che il percorso richiede impegno, richiede impegno. Anche testartagine. Però quella soddisfazione che poi ne ricavi quando finalmente capisci, accogli quel concetto e riesci a esplorarlo in tutte le sfaccettature, e quello ti dà una soddisfazione che ti ripaga di tutte le fatiche e di tutti gli sforzi che hai fatto. Però mi ricordo invece il mio primissimo giorno di lezione quando ero studente. Mi ricordo la prima lezione fu quella dell'esame che si chiamava geometria, che era algebra e geometria. Sì, me lo ricordo, ok. Esatto, e fu devastante per me. Fu devastante per questa ragione. Avevamo l'unica docente donna che io abbia avuto, questo è un peccato perché purtroppo ancora in quegli anni il rapporto, oggi è sbilanciato, ma al tempo era ancora più sbilanciato, fra genere maschile e genere femminile. Io avevo solo un'unica docente donna, tutti gli altri docenti che ho avuto erano tutti uomini, che era anche abbastanza giovane, forse era anche ai suoi primi anni l'insegnamento, comunque era molto brava, e mi ricordo che iniziò la lezione dicendo oggi ripassiamo come si risolvono i sistemi di equazioni lineari. Ok, ce l'ho, ce l'ho qualcosa, sì, sì. Beh, io ho anche un po' di presunzione, ma questa anche io che ho fatto il liceo classico so che cosa significhi, e quindi vabbè andrà tutto liscissimo. Ebbe andato tutto lì. E la professoressa ha iniziato a riempire la lavagna di quelle che poi ho capito essere i simboli di sommatoria, ma che in realtà per me erano soltanto delle sigma maiuscole in greco, quindi le sapevo leggere ma non ne attribuivo il significato, e riempì la lavagna di queste sommatorie, di queste lettere con apici e pedici ovunque, e ricordo benissimo il mio trauma alla fine della lezione, lei finì la lezione, uscì dall'aula e io che ero sedutito al primo banco, tutto compostino, però traumatizzato, scioccato, mi ricordo proprio la visione di me come insomma alla pirandello che ti estrai e ti guardi dall'alto. In questo momento sta comparendo la nuvola. Sta comparendo la nuvola che scuoto la testa lentamente e il fumetto da una nuvola dice ho sbagliato corso di laurea. Ecco, poi dopo capì che insomma dovevo un po' recuperare alcune lacune, mi feci prestare un libro di un liceo scientifico di analisi e matematica da una mia compagna di corso che avevo conosciuto proprio quel giorno e mi misi a studiare come un matto per recuperare un minimo gap che insomma separa un po' all'inizio chi ha fatto un liceo scientifico da magari chi ha fatto un liceo classico solo come conoscenze preliminari e poi dopo riuscì a rimettermi subito al passo. Fu traumatica quella giornata. Secondo me questa cosa del gap è un po' vera però credo che resista la prima settimana perché già la seconda settimana vedo che siamo tutti, almeno io mi guardavo in giro e c'era questo sguardo di dispersione totale tra gli studenti. Un po' fa, ma questo qua per quello che riguarda la tua parte è stata la studente ma invece perché poi attualmente io ti ho conosciuto come professore quindi com'è che siamo poi arrivati, cos'è che ti ha detto ok voglio continuare su questa strada, voglio andare avanti anche perché successivamente poi ho visto un po' studiandomi perché mi devo studiare un po' gli ospiti del podcast ho visto che hai viaggiato parecchio, anzi sei proprio uscito attualmente siamo a Bologna, sei uscito dalla Sardegna e hai viaggiato per l'Italia quindi è stato questo amore che ti ha fatto andare avanti o la voglia, questa sete di conoscenza e anche questa scelta del tuo campo di ricerca com'è stato questo approccio? Ma diciamo che ho seguito un po' il flusso degli eventi guidato da un unico motore ho animato da un unico motore che era quello di continuare a divertirmi posso dire così secondo me è una cosa bellissima cioè a seguire la mia passione se uno segue una sua passione vuol dire che sta facendo le cose con piacere anche se hanno sempre richiesto un grande impegno però fai quello che ti piace e non lavorerai mai un giorno nella tua vita ma quello che ha segnato quindi, ha guidato il mio percorso è stato proprio inseguire quel primo colpo di fulmine diciamo davanti, adesso iconizziamolo in questo modo davanti alla bambola parlante Ah ok, proprio al primo Sì, al primissimo ancora cioè nel senso proprio sono quelle cose che ti vengono distinto e quindi ho sempre seguito un po' questo e da buon sardo io desideravo rimanere in Sardegna inizialmente quindi mi impegnai tantissimo ebbi anche l'opportunità di andare a fare dei post hoc addirittura già a livello di dottorato all'estero però avevo questo desiderio in qualche maniera di rimanere quindi inizia a fare il dottorato in Sardegna ma contemporaneamente siccome avevo iniziato a frequentare anche il Dipartimento di Fisica dell'Università di Parma viaggiavo spesso a Parma e poi insieme ai colleghi di Parma e alla fine quello che è stato anche un po' il mio mentore scientifico nel professor De Renzi di Parma si andava abbastanza spesso anche a fare degli esperimenti nelle quelle che chiamiamo le large scale facilities nelle facility nei grandi centri di ricerca dove ci sono degli acceleratori di particelle perché una delle tecniche sperimentali oltre alla risonanza magnetica nucleare che utilizzavo nei laboratori di Parma studiavate proprio le finanze magnetiche? utilizziamo sì ancora oggi la utilizzo per studiare appunto le proprietà dei materiali e utilizzavamo anche ancora oggi tantissimo una delle mie tecniche principali di indagine quella che si chiama la spettroscopia muonica cioè si utilizzano dei fasci spimpolarizzati di muoni queste particelle elementari che più o meno ogni minuto ci investono sono prodotte anche dai raggi cosmici quando appunto arrivano sull'atmosfera ogni minuto riceviamo siamo attraversati da circa 4-5 muoni che in teoria non ci dovrebbero essere che sono state poi una conferma della relatività e sono qua che ci attraversano e noi neanche ce ne accorgiamo e comunque insomma esistono degli acceleratori di particelle dove si possono produrre in maniera controllata e queste particelle vengono elementari si possono impiantare sono particelle cariche tipicamente usiamo i muoni positivi carichi positivamente li possiamo immaginare come dei positroni ok c'è un elettrone carico un elettrone carico positivamente no? positrone si ok ok non ho sbagliato così tanto mi sono guadagnato la laurea si hanno dei positroni un po' più pesanti ok ok una massa più grande e e vengono impiantati appunto nei materiali e l'interazione del loro spin che possiamo immaginare come un aghetto magnetico microscopico quantistico che che è associato a queste particelle interagisce con tutti con tutti i circostanti i campi diciamo magnetici prodotti internamente al materiale quindi si possono studiare facilmente tutte le proprietà magnetiche ma non solo legate al comportamento del materiale stesso in esame una cosa affascinantissima come anche la risonanza magnetica nucleare che diventi lì fai questa manipolazione quantica degli spin nucleari e da questa ricavi informazioni microscopiche sulla scala atomica anzi delle interazioni che intercorrono tra gli spin nucleari e tutto il circondario locale e quindi tecniche diciamo potentissime per andare a esplorare la materia e trovare quelle risposte che fin da bambino in maniera molto più ingenua ovviamente senza domande che erano molto più elementari però poi nel corso degli anni studiando fisica si specializzano anche le domande ti fai sempre domande più sofisticate e rientra rientra in questa in questa in questo filone se vogliamo no? in questa visione e diciamo la mia fortuna barra sfortuna ok poi ti chiederò perché fortuna sbarra sfortuna fu che quando facevo il dottorato di ricerca purtroppo il mio professore di tesi venne a mancare il buon professor Manca venne a mancare e quindi io mi ritrovai un po' un po' da solo perché nel gruppo eravamo sostanzialmente soltanto io e lui io a Cagliari mi ero specializzato nella sintesi dei materiali quindi io preparavo io fabbricavo i miei materiali fabbricavi con queste tecniche fabbricavo con delle tecniche di sintesi allo stato solido fabbricavo i materiali superconduttori perché è stato il mio primo amore diciamo scientifico la superconduttività insieme appunto al buon professor Manca e e poi caratterizzavo questi oggetti per capire se erano venuti bene o male che quale fosse la loro loro comportamento almeno la loro temperatura di transizione allo stato superconduttivo e poi questi oggetti mi li portavo in giro andavo a fare gli esperimenti di risonanza magnetica a Parma poi andavo a fare gli esperimenti di spetroscopia monica andavamo in quel periodo soprattutto in Inghilterra nei pressi di Oxford ah in Rata in Forapleton Labs e quindi facevo un po' questo percorso che sebbene rimanessi diciamo come base nella mia università cagliaritana però giravo continuamente e che sempre in giro ero un ragazzino animato appunto da questa passione che si è ritrovato ad un certo punto orfano scientifico orfano scientifico nel senso che il mio professore purtroppo venne a mancare al mio primo anno alla fine del mio primo anno di dottorato e quindi dovetti in qualche maniera arrangiarmi e continuare continuare da solo venne adottato a distanza per fortuna come dico sempre in maniera un po' scherzosa ma è anche un po' vero dai colleghi dell'Università di Parma e quindi che hanno comprato con il prosciutto proprio hanno vinto facile hanno vinto facile con il prosciutto il parvigiano e anche con con la loro competenza mi ritrovai veramente in un mondo scientifico molto interessante molto vivace molto stimolante e da lì da lì non mi sono più staccato da questo binario quindi anche gli anni successivi dopo il dottorato fece ancora un po' stocco sempre di Acagliari poi non so se si può dire questa cosa ma a un certo punto penso di sì non so se si può dire adesso stiamo creando aspettativa con i nostri ascoltatori stiamo facendo hype proprio per non so se si può dire questa cosa al tempo ci rimasi molto male ma venne insomma un docente molto influente del dipartimento a quel tempo che mi disse guarda Samuele siamo molto contenti di quello che stai facendo tutta l'autonomia partendo così ho già paura hai capito ho già paura però insomma tieni conto del fatto che insomma non hai possibilità di sbocchi o di continuare qua ci sono tanti altri bravi ragazzi che hanno alle loro spalle magari qualcuno un supervisore stabile eccetera quindi comincia anche a guardarti in pratica ti hanno detto ti vedo solo come un amico una cosa di questa tipologia ovviamente si scherza amici di Cagliari non è sì no ma allora in realtà io devo anche spezzare una lancia in favore di questa persona a cui in realtà devo essere molto grato perché io avevo ancora due anni davanti come contratto lui mi face un discorso veramente d'amico sentito nel senso che mi metteva semplicemente in guardia del fatto guarda che le probabilità di poter rimanere qua non sono altissime va bene quindi mi disse cominciò anche a guardarti un po' intorno eccetera io devo dire che lì per lì l'ha preso un po' male ma perché uno dice uno dice che è affezionato anche un po' l'idea di restare le cose che facevo mi piacevano moltissimo avevo trovato il mio equilibrio anche con le collaborazioni frequentavo anche moltissimo perché poi alla Sapienza ci sono arrivato ci sei arrivato a Roma sì mi sono arrivato nel senso che frequentavo moltissimo anche i colleghi collaboravo con alcuni colleghi della Sapienza e quello che che è successo però è che non so decisi di smettere fra due anni smetto finisco il contratto non ho voglia di andare a fare mi sentivo già un po' demoralizzato ma è stata una reazione emotiva soprattutto che per fortuna è svanita quando vinsi una posizione anche se a tempo determinato quelle che oggi chiameremo RT di Ancora non esistevano ma era una posizione da ricercatore a tempo determinato presso l'università di Parma e mi trasferì lì e lì inizia un po' un po' il mio viaggio poi vinsi la posizione invece da ricercatore a tempo indeterminato quelle posizioni che adesso sono già quelle che adesso siano leggende leggenda io ho preso uno degli ultimi posti del 2009 bandito all'università di Pavia e quindi vinsi dall'oggi al domani vinsi questo concorso mi trasferì a Pavia a fare continuare però esattamente con le stesse tecniche della risonanza magnetica con la spettroscopia monica perché anche a Pavia sono molto bravi in questo ambito forse solo Parma e Pavia adesso un pochino sto portando anche queste competenze qui a Bologna nel mio piccolo però diciamo sono sicuramente i centri più più importanti dove queste cose si fanno molto molto bene a Pavia non pensavo e sono stato sette anni come ricercatore appunto a Pavia anche docente ho iniziato lì i primi insegnamenti esatto i miei primi corsi ufficiali in università e poi il destino mi ha portato mi ha portato a Bologna desideravo a Pavia mi trovavo benissimo con i colleghi persone anche lì fantastiche non mi vedevo proprio diciamo come prospettiva futura diciamo arrivare alla pensione nella cittadina di Pavia ho trovato l'occasione di venire qua a Bologna e questo mi ha portato sostanzialmente attualmente a Bologna però tutto questo percorso ha lo stesso filo conduttore che sostanzialmente anche se ovviamente la ricerca rispetto a quando ho iniziato il studio dei primi materiali superconduttori che avevo iniziato a studiare fin dalla mia tesi di laurea a Cagliari quindi il percorso si è evoluto ma si è evoluto con continuità cioè sono partito da lì e sono rimasto seguendo questo filone che mi ha portato dai materiali superconduttivi anche ai materiali magnetici perché comunque anche i materiali superconduttivi hanno delle proprietà magnetiche eccezionali non a caso sono utilizzati per fare per realizzare i magneti più potenti che abbiamo a disposizione e e quindi ho arricchito nel tempo la mia la mia esperienza però mantenendo sempre una continuità sempre su quei su quelli nell'ambito della ricerca una continuità nell'ambito della ricerca che sono riuscito a mantenere nonostante abbia cambiato da parte da città a città da città a città e quindi ho seguito questo flusso semplicemente guidato da questa passione ecco questo è stato è stato il motore il motore principale ma devo dire giusto guarda perché questa cosa mi è venuta in mente mentre parlavo mentre parlavo prima tutto questo è stato possibile grazie al fatto che nella mia nel mio percorso ho incontrato delle persone che sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano sono state sempre sono state davvero fantastiche nel senso che questa non è una fortuna che possono vantare in tanti finora finora mi è andata davvero molto bene così sia sia quando ero quando ero a Cagliari poi sono stato a Parma poi a Pavia in tutto il mio percorso formativo perché quello lo considero proprio il percorso tutto il percorso formativo ho sempre incontrato interagito con dei colleghi veramente di grande di grande spessore sia umano che scientifico e professionale e questo non credo che sia una è una fortuna in anellarli tutti uno dietro l'altro così questo sì però nel nostro mondo probabilmente anche l'idea che ti stai facendo tu che hai iniziato a vivere intensamente questo mondo adesso anche entrando nei laboratori svolgendo lavori di tesi studiando in maniera più approfondita interagendo maggiormente con le persone che hai attorno e in questo mondo si trovano davvero un sacco di persone diciamola molto in gamba come si usa dire mi piaceva molto la definizione umano perché molto spesso sia anche casomai anche da persone che non fanno parte di questo mondo che comunque ci possono vedere da fuori che sia guidato come dicevi te soltanto dalla curiosità da questo amore per la materia quando in realtà una cosa bellissima è che ho scoperto che anch'io e ovviamente in un'università si incontrano come studenti molti professori e ci sono quelli con una parte una carica più umana che riescono a trasmettere cioè cambia effettivamente la materia cioè io ho dei ricordi bellissimi di materie che sono erano molto ostiche e a me personalmente ho già un più o meno la decisione di voler fare astrofisica che però con quei professori li mi hanno fatto innamorare proprio e altre invece che speravo mi piacessero tipo vabbè non diciamo alcune che pensavo mi piacessero per il titolo per di che cosa si trattava che invece purtroppo c'è stato un incontro umano in cui non ci siamo capiti avevamo un carattere diverso e quindi lì risulta risulta molto diventa molto più ostico approcciarsi continuare sulla materia e quello lo condivido appieno proprio perché penso che questo mondo sia fatto ok da equazioni esperimenti conferme così ma persone dietro tutto questo ed è anche quello che mi piace ascoltare parlare in questo podcast perché proprio mi aiuta a capire più questo mondo dietro e ti faccio una domanda prima che hai appunto hai introdotto a Pavia che tu hai cominciato a insegnare ti volevo chiedere uno come è stato questo approccio all'insegnamento perché fino ad allora avevi fatto il ricercatore o eri stato studente quindi io provo a mettermi nell'idea di dover passare dall'altro lato e quindi ti chiedo come è stato e poi appunto però mi hai già un po' risposto il motore che ti ha guidato in questa ricerca che però leggermente c'è stato qualche cambio passando dai superconduttori alle proprietà più magnetiche dei superconduttori e quindi ci sono faccio queste due domande così proprio a bruciapelo allora per quanto riguarda la seconda è stata tutta una dinamica naturale ecco seguendo semplicemente il flusso della curiosità di rispondere a alcune domande di ricerca e dall'altra parte anche elementi contingenti eventi contingenti il fatto che magari ti arriva un finanziamento su un determinato progetto piuttosto che su un altro e ti spostano leggermente cercare una risposta specifica di un tipo o di un altro tipo e quindi insieme ai superconduttori che continuo sempre a studiare tantissimo ho affiancato la ricerca con lo studio di materiali magnetici come lo studio di nanoparticele magnetiche oppure nanomagnetimi molecolari o ancora adesso stiamo anche studiando dispositivi nuovi sistemi ferromagnetici cioè per realizzare dei magneti ancora più potenti o almeno più economici per l'uso per esempio per la realizzazione di motori elettrici ah vedi che il cerchio si chiude il cerchio si chiude la realizzazione di motori elettrici per automotive o per impieghi di vario tipo quindi insomma si si evolve nella ricerca seguendo un po' il flusso dell'interesse attuale del tuo della tua curiosità del momento cercando di far coincidere quando è possibile le varie cose per quanto riguarda l'insegnamento sai quando diventi ricercatore automaticamente già al tempo diventavi anche docente universitario perché comunque non era obbligatorio però di fatto è fortemente consigliato tutti tutti i ricercatori avevano almeno almeno un corso e questo questa questa era comunque una cosa molto stimolante perché il rapporto con gli studenti è un rapporto che ti arricchisce tantissimo ti arricchisce tantissimo per insegnare in generale per due ragioni uno appunto il rapporto con gli studenti entri in relazione gli studenti ti danno molti stimoli ti fanno riflettere anche su alcune cose riguardarle in maniera più accurata per sciogliere magari i loro dubbi devi trovare anche delle spiegazioni alternative devi trovare in modo di semplificare il più possibile concetti abbastanza difficili e questa è un'esperienza oltre che la relazione umana con gli studenti stessi e questa è un'esperienza molto interessante mi sembra molto difficile in alcuni casi perché poi si ha davanti un pubblico ampio almeno sì ma io ho sempre avuto classi per fortuna tra i adesso qui a Bologna corsi tra i 20 e i 50 studenti vedo che i numeri più o meno si mette si riesce a instaurare una buona relazione per fortuna in questo modo hai ragione quando si ha a che fare con corsi sì tipo penso ingegneria esatto e lì soprattutto i primi anni magari si fa più fatica però insomma un buon docente secondo me un pochino riesce a trovare una sintonia una relazione con gli studenti il secondo aspetto è che quando insegni ti prepari delle lezioni perché non si può improvvisare è vero che alcune cose le hai studiate ma molti anni prima quindi te le devi ristudiare e per poterle insegnare e trasmettere le devi capire molto molto bene perché una cosa che non hai capito bene non riuscirai mai a trasmetterla abbastanza bene quindi c'è questo stimolo proprio dello studioso insegnare per esempio quando fai un nuovo corso è un momento faticosissimo i miei colleghi non so se c'è qualcuno che ci ascolta sa benissimo cosa significa magari gli studenti questa cosa non la percepiscono no? perché perché non hanno quel tipo di esperienza ma organizzare ristudiare pianificare un nuovo corso richiede uno sforzo se uno vuol far bene uno sforzo notevole però è anche molto bello perché ricapisci le cose e le capisci molto meglio perché c'hai tutta un'esperienza maggiore una visione più ampia dei vari argomenti e quindi riesci anche più facilmente a trovare i vari collegamenti una cosa che la studente è un po' più rara si può cerco di stimolare sempre gli studenti nei miei corsi a trovare i collegamenti all'interno delle varie parti del corso e magari anche dei collegamenti con gli altri corsi però ecco questa necessità di dover trasmettere agli studenti tramite l'insegnamento dei corsi ti stimola proprio ad approfondire argomenti che ti ricordi di aver studiato a volte non li avevi neanche studiati a seconda dei corsi che fai e quindi ti appaga come studioso perché fare questo mestiere significa contemporaneamente sia avere il compito della docenza che il compito della ricerca doverti confrontare con tutti gli aspetti e le sfaccettature dei due compiti che a volte si intrecciano per esempio quando si fanno le tesi si assegnano le tesi di laurea o si fanno le tesi di dottorato o si hanno studenti di dottorato eccetera le due cose si intrecciano ed è molto può essere molto appagante è veramente interessante appunto provare a entrare in questa mentalità e proprio un fatto di cui hai leggermente accenato ma di cui volevo proprio parlare anche perché noi ci siamo conosciuti sotto questo campo ovvero quando vai a spiegare agli studenti appunto ti vai a ristudiare la tua materia o comunque alcune aspetti della materia per riuscire a spiegargli agli studenti che comunque sono lì perché vogliono imparare o almeno maggior parte invece ho visto che sei molto attivo e noi ci siamo conosciuti in un progetto che si parla invece di divulgazione ovvero parlare a delle persone e casomai riuscire a tirarle dentro il proprio argomento e provare a proprio fargli passare quella che è la ricerca in questo campo cosa ci può dare cosa ci può trasferire quindi di narrare la scienza anche per quello che è stato proprio Onshi che pubblicizziamo anche qui perché è stata veramente una bella iniziativa qua a Bologna ovvero officina di narrazione della scienza e ti volevo chiedere questo questa voglia di narrare la scienza è stata una conseguenza dell'insegnamento o ce l'avevi già te come ricercatore quando casomai avevi anche cominciato a studiare questa voglia di far passare oltre cioè di non rimanere nell'ambito accademico di riuscire a raggiungere un pubblico più ampio rispetto ai soli studenti o collaboratori che sono in questo ambito fisica fisica dei materiali ad esempio la necessità di imparare a raccontare meglio le tue cose la fisica adesso argomenti in generale sia legati alla tua ricerca o legati all'attività accademica di docenza ma anche poi trasferibili a interagire con un pubblico diverso da quello accademico compresi gli studenti quindi magari studenti delle scuole superiori o anche un pubblico di cittadini che non hanno nessun tipo di curiosi curiosi ecco questa necessità è maturata nel tempo ok e intreccia tutte queste tre aspetti quello della docenza quello della se vuoi divulgazione dei propri risultati in consessi proprio scientifici specializzati e poi divulgazione invece a un pubblico più ampio ok perché per riuscire a far bene queste tre cose c'è questo questo filo una base un background che secondo me bisogna formarsi e che l'università almeno quando l'ho fatta io non era non era in grado di fornire questi strumenti sostanzialmente oggigiorno c'è più attenzione noi qui a Bologna per esempio a Raggi Strali abbiamo i cosiddetti corsi soft skills che oltre che insegnare come si scrive un progetto di ricerca un articolo scientifico insegnano un pochino anche come si presenta come parlare in pubblico come costruire una presentazione posso dire questo allora riguardo a questi tre aspetti il primo è lo shock di subire la mia prima lezione era ancora un dottorando un docente mi disse guarda sono malato domani mattino la mia prima lezione non è che puoi andare tu per cortesia comodo e io mi prestai a questa cosa ma per me fu paralizzante perché arrivai lì mi ero preparato tutta tutta la notte perché mi diede 24 ore neanche mi diede gli appunti e le cose nel tardo pomeriggio quindi io cominciai a studiare la prima lezione fisica 2 ingegneria arrivai in classe 150 studenti io cominciai a sudare freddo quando si dice panico da palcoscenico penso che lì proprio sia quella fu me la ricordo me la ricordo ti vedo me la ricordo ancora e lì lì capì che non si improvvisa a fare lezione cioè bisogna prepararsi molto bene ok io mi ero preparato il meglio che potevo col tempo che avevo a disposizione ma era la mia primissima esperienza no quindi lì capì che bisognava iniziare a capire che bisognava proprio un po' specializzarsi in questa cosa poi l'altro aspetto la divulgazione scientifica in consessi frequentati da colleghi specializzati anche nel tuo ambito cioè i convegni scientifici non so se tu hai mai partecipato a un convegno scientifico a uno però forse ho capito dove vuoi andare a parare adesso a parte qualcuno che è illuminato di sé la maggior parte degli interventi sono pesantini da seguire interessanti se tu conosci già quell'argomento e sei specializzato molto dell'argomento di cui il relatore sta parlando anche se il relatore non è particolarmente brillante riesci un po' a capire ma ormai lo sappiamo i saperi sono molto specializzati e quando fai queste conferenze spesso hai a che fare con un pubblico che per la maggior parte è costituito da persone che non sono super specializzate nell'argomento di cui tu stai parlando quindi devi come relatore sforzarti il più possibile di rendere l'argomento fruibile anche se sai che sono dei fisici o comunque legati al tuo ambito in qualche maniera però più fruibile anche a coloro che non sono che non stanno esattamente studiando quell'aspetto di cui tu stai andando a parlare e quindi insomma contestualizzare al meglio il tuo il tuo lavoro insistere su quali sono le domande urgenti a cui tu stai cercando di dare risposta e il metodo in cui tu hai approcciato il problema e poi quali sono i risultati che hai ottenuto per rispondere alla domanda alla domanda iniziale detta così è molto semplice sembra in realtà in realtà poi metterlo in pratica è abbastanza complicato anche perché non c'è solo l'aspetto del verbale quindi la narrazione e ti ringrazio per aver citato l'officina di narrazione della scienza ONCI in cui appunto insistiamo soprattutto sulla costruzione del discorso quindi l'aspetto narrativo che è importantissimo poi c'è anche tutto l'aspetto del quello che viene chiamato il paraverbale che riguarda un po' più aspetti anche di public speaking eccetera e tutte queste skills queste competenze che ormai i termini inglesi dicono che bisogna cercare di usarli con maggiore parsimonia ah è vero Sino quindi insomma le competenze necessarie per fare una buona relazione una buona presentazione oltre che le tue conoscenze e competenze sulla materia vanno coltivate costruite curate e in questo senso noi qui al dipartimento di fisica e astronomia di di bologna insieme ad altri colleghi illuminati tra cui la collega che è la presidentessa della commissione terza missione la professoressa fabbri del nostro del nostro dipartimento insieme appunto un altro gruppetto di colleghi molto interessati a questi aspetti abbiamo messo in piedi ideato questa scuola questa scuola estiva che voleva essere però un'officina per quello la chiamiamo così cioè un posto dove un luogo dove puoi svolgere un'attività laboratoriale e mettere in pratica queste competenze che nel piccolo dei cinque otto giorni di svolgimento della scuola però inizi ad assaporare ad assaggiare no e poi è solo un modo per iniziare gli studenti a questo tipo di di attività incuriosirli che del fatto che esistono che c'è la necessità prima di tutto perché molti di noi lo ignoriamo che c'è la necessità di affinare queste competenze e che esistono proprio degli studi dei modi specifici con cui si possa si possono affinare e completare e in tutto questo devo dire che siamo già alla terza edizione che posso dirle in anticipo adesso posso dare in anteprima che si svolgerà quest'anno dal 7 al 13 settembre sempre presso il dipartimento di fisica e astronomia dell'università di Bologna e fra pochissimo come si dice stay tuned fra pochissimo le piattaforme verrà divulgato nel giro di qualche settimana stiamo predisponendo adesso un po' tutto il calendario in maniera in maniera più dettagliata e poi partiranno gli annunci anche per raccogliere le iscrizioni degli studenti che finora hanno trovato tu sei forse un esempio reale in tempo reale adesso di questa esperienza che hanno manifestato davvero molto entusiasmo io devo dire che non era non lo predevavamo neanche inizialmente ma quello cioè non sapevamo benissimo cosa sarebbe successo perché è un'iniziativa abbastanza nuova anche nel panorama sono le cose più belle nel panorama italiano esatto e c'è c'è però questo che secondo me è un po' il segreto di tutto no? è un po' come come quella filo come quella molla che mi ha che mi ha spinto a continuare a far fisica a continuare il mio percorso un flusso che segue eccetera ed è quando hai una passione senti l'urgenza di qualcosa noi come docenti ci siamo posti questo questo problema ma insomma noi per migliorare questa missione che oltre a quella della didattica e della ricerca poi si affaccia anche a quella viene chiamata la terza missione con questo nome un po' infelice però che comprende tutte quelle attività che non sono specificatamente di docenza o di ricerca che vengono che vengono svolte dall'università come per esempio la divulgazione anche a un pubblico più ampio oppure il trasferimento tecnologico oppure tutte quelle attività museali eccetera tutte quelle attività che hanno a che fare con attori esterni all'università ma in realtà appunto questi metodi di narrazione poi se vogliamo anche in senso più ampio di divulgazione sono necessari in tutte e tre gli ambiti sia in quello didattico che in quello della ricerca in senso più stretto perché tu i risultati dovrai diffondere a un certo punto e poi anche in quello cosiddetto della terza missione didattica insegnamento ricerca terza missione quindi sono strumenti che servono a tutti coloro che si affacciano al mondo accademico e quindi i nostri studenti in generale sono sempre molto interessati a questo a questo a questo tipo di di percorso almeno stanno cominciando a conoscere questo mondo e capire che è necessario studiare non solo le proprie materie scientifiche disciplinari ma anche questi questi ulteriori aspetti ma più che altro perché vedo sento almeno per me nel senso quando ad esempio i miei amici mi bloccano perché quando siamo in birreria che voglio cominciare a parlare di un argomento e non posso perché sennò vengo cacciato dal devo andare fuori dalla birreria parlare invece di quelli che sono gli argomenti che mi muovono ogni giorno ho ritrovato appunto nella divulgazione e divertendomi perché poi alla fine diventa uno scambio con i miei amici con gli ospiti che vengono qui interessantissimo e ritrovare appunto nel poter parlare di una materia casomai alcune persone piacciono alcune persone no però liberarmi di questa cosa mi dà soddisfazione e sento anche molti miei colleghi coetanei sempre in questo campo che hanno proprio voglia di sperimentare di fare questa esperienza e questo mi riempie veramente di di gioia appunto in questo ambito una cosa che secondo me avete centrato appieno è stato il nome ovvero officina mi dà proprio quel senso di bottega che io poi ho ritrovato dentro il planetario di Modena in cui si impara il mestiere o si comincia a imparare il mestiere però dopo ci deve essere comunque la voglia dello studente mettersi lì e fallire rifallire tornare a fallire io se penso alla prima puntata Mercurio che la gente continua ad ascoltare io non so per quale motivo e mi dà proprio quella carica di dire ok ogni giorno io voglio migliorare le puntate che ho fatto perché c'è quella puntata però appunto ti dà quella carica quella voglia di sperimentare anche perché ad esempio in Onsci si è fatta una cosa che io faccio molto poco uno per questione di tempo uno per altre questioni ovvero questo storytelling costruito che fa poi Brunello esatto e che era il come possiamo dire lo speaker perché io ho fatto il laboratorio non è l'unico che abbiamo però tu hai seguito proprio quello con Andrea Brunello sì sì che io sono d'accordo e non d'accordo allo stesso tempo sono in questo stato bivalente nel senso che sono d'accordo per fare quella divulgazione lì però nel frattempo voglio sperimentare altro ad esempio le interviste perché mi riempiono a me qualcosa di cui sento di aver bisogno e mentre una narrazione più costruita così so che ne potrei fare molte meno mentre il mio obiettivo è anche voler fare di più regalare alle persone che mi ascoltano qualcosa di maggiore voglio parlare di tanti argomenti poi mi riduco effettivamente a non avere più una vita effettivamente a scrivere le puntate di notte però ebbè c'è comunque qualcosa di bellissimo io ti purtroppo stiamo veramente prendendo i nostri cisi mi hai dato adesso scusa in quasi chiusura l'opportunità di di raccontare brevissimamente questo che per quanto mi riguarda proprio per quanto riguarda me personalmente la molla che mi ha fatto capire quanto fosse necessario e importante andare a investigare a studiare ad apprendere i meccanismi della narrazione da trasferire poi anche in ambito scientifico è stato in un momento specifico anche lì sai sono sempre questi un po' in momenti folgoranti che fanno un click nella tua testa è stato quando svolgevo un'attività che magari molti miei colleghi snobbano un po' a volte non tutti però ci sono tanti che invece si prestano molto amabilmente a questo 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 servizio di laboratorio per gli studenti delle scuole superiori che vengono qua per una settimana a fare un po' un po' di attività io avevo fatto un laboratorio proprio sui superconduttori gli ho fatto costruire un trenino a levitazione magnetica si sono divertiti tantissimo almeno mi è sembrato così e la restituzione finale che era prevista si poteva fare o sotto forma di video o sotto forma di rappresentazione teatrale e io in quell'occasione incontrai e conobbi Andrea Brunello che hai appunto già citato prima che è un fisico un drammaturgo ormai da tanti anni prestato al teatro scienza e attività ha proprio fatto l'accademia esatto lui ha studiato ha fatto sia un dottorato in fisica non mi ricordo in quale ambito lui come fisico teorico ah teorico esatto e poi contemporaneamente aveva anche questa passione del teatro e ha unito un po' un po' le due cose e ci aiutò aiutò i ragazzi a fare una presentazione della loro attività sotto forma di storia e fu nel loro piccolo un grandissimo un grandissimo successo fu loro si divertirono tantissimo e alla fine il prodotto fu molto gradevole insomma chiaramente una cosa preparata in dieci giorni compresa anche tutte le conoscenze scientifiche che dovevano avere eccetera però in quel momento ho capito che questa cosa poteva essere molto interessante da applicare in maniera un poco più come dire sistematica che banalmente a una presentazione che fai o quando fai la tua tesi di laurea o quando fai un un seminario più scientifico o quando fai un seminario divulgativo insomma con le dosi giuste a seconda di ciascuno dei casi in cui ti che ti trovi ad affrontare utilizzare gli ingredienti necessari averne consapevolezza perché molti di noi magari sono più bravini lo fanno in maniera un po' più spontanea però se vuoi la scuola di officina di narrazione della scienza cerca un po' di di dare questo tipo di strumenti che che possono appunto essere trasversalmente utili ogni volta che parli con qualcuno no ma infatti è a parte che molte delle cose dette in officina launch mi sono tornate utili anche per questa terza stagione quindi se per caso vedete un miglioramento oltre che scriverlo nei commenti anche mettere mi piace agli episodi in cui vi invito ogni puntata è anche dovuto proprio a quello cioè una cosa che ho condiviso tantissimo con Brunello è la prima cosa una delle prime cose che ha detto ovvero trovare la propria voce che sembra una cavolata nel senso ci sono format come ad esempio l'intervista come ad esempio fare le proprie puntate come anch'io che mi scrivo all'inizio andavo a braccio poi mi sono reso conto che ho troppe idee quindi mi conviene scriverle anche perché sennò dopo faccio digressioni lunghissime e mi voglio scrivere anche le battute perché qualche volta vengono mi piace collegare battute non bellissime me ne rendo conto mi scuso però sono comunque battute che mi piacciono e quella cosa lì proprio l'ho vista ad esempio anche per tornare alla cosa della narrazione della scienza è una parte che mi piace ma che non sento cioè fatta in quel modo come abbiamo fatto con Brunello che non sento completamente mia di conseguenza mi ci metto qualche volta mi piace però devo ancora trovare in quell'ambito la mia voce quindi dosare che poi alla fine sembra veramente trovare una come fare delle ricette come cucinare perché poi si comincia a trovare le proprie le proprie dosi le proprie cose che risaltano tantissimo la persona io però ovviamente abbiamo sequestrato le persone che ci stanno ascoltando oggi quindi ti chiedo se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori per questa puntata e dopo mi sa che ti lascio anche andare a pranzo perché è ormai ora beh io tanto ringrazio nuovamente tantissimo te è stato davvero molto piacevole questo incontro abbiamo spaziato su tutto abbiamo altre due pagine di cose di argomenti di cui avremmo potuto parlare probabilmente magari non abbiamo toccato argomenti scientifici in senso stretto però mi piace dare questa la scienza credo che sia anche passata è in tutto il background è stato veramente il tuo filo conduttore di tutta la puntata quindi è quello che mi ha fatto piacere in questa di far passare penso che sia passata e spero che anche i nostri ascoltatori insomma abbiano gradito apprezzato la puntata e li ringrazio tantissimo e li saluto calorosamente e ovviamente iscrivetevi a officina della scienza ONSC dal 7 al 13 settembre 7 al 13 settembre benissimo io invece siamo arrivati proprio alla conclusione di questa puntata quindi vi invito come ogni volta a seguire le pagine social del planetario mettere mi piace condividere la puntata noi ci dovremo vedere settimana prossima se riesco a registrare devo finire di scrivere la puntata quindi non ne sono completamente sicuro e ovviamente se volete venirci a trovare al planetario vi aspettiamo sul nostro sito per sapere quelle che sono le iniziative come domeniche con le famiglie oppure quelle che sono le conferenze con anche osservazione io direi che con questo ho chiuso noi ci vediamo settimana prossima forse e questo è tutto ciao ciao